La cronaca del caso Yara Gambirasio è una delle vicende di cronaca nera più seguite e scioccanti della recente storia italiana. La storia di Yara, una giovane ragazza di 13 anni scomparsa nel 2010 e ritrovata senza vita dopo tre mesi, ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso, segnando profondamente l'opinione pubblica. 26 novembre 2010. La scomparsa. Yara Gambirasio, una ragazza di 13 anni di Brembate di sopra, Bergamo, scompare misteriosamente la sera del 26 novembre 2010. Intorno alle 18 e 30 Yara esce di casa per andare al centro sportivo del paese dove si allena come ginnasta. Doveva solo restituire uno stereo alla sua istruttrice e tornare a casa subito dopo, ma non vi farà mai ritorno. La sua famiglia, allarmata per il ritardo, la cerca per tutto il paese senza successo e denuncia la scomparsa alla polizia. Le ricerche. Le ricerche di Yara iniziano immediatamente coinvolgendo centinaia di volontari, forze dell'ordine, cani molecolari e mezzi aerei. Brembate di sopra diventa il centro di un'operazione di ricerca senza precedenti. L'Italia segue con apprensione il caso, sperando che la ragazza venga ritrovata viva. Il caso attira l'attenzione dei media e le trasmissioni televisive più seguite cominciano a parlare della sua scomparsa, facendo appelli per chiunque avesse informazioni. Gli inquirenti non trovano subito indizi chiari e giorno dopo giorno le speranze di ritrovare Yara in vita si affievoliscono. 26 febbraio 2011. Il ritrovamento del corpo. Esattamente tre mesi dopo la scomparsa, il 26 febbraio 2011, un uomo che sta facendo volare il suo aeromodello trova casualmente il corpo di Yara in un campo aperto a Chignolo d'Isola, un paese a circa 10 chilometri da Brembate. Il cadavere è in avanzato stato di decomposizione, ma il corpo viene identificato come quello di Yara Gambirasio grazie alla presenza degli stessi vestiti con cui era scomparsa e al suo cellulare. L'autopsia stabilisce che la giovane è stata colpita con diversi colpi da un'arma da taglio e con un oggetto contundente, oltre a essere stata abbandonata ancora viva ma ferita gravemente in quel campo. La causa del decesso è riconducibile alle ferite e all'ipotermia. Le indagini. Le indagini per trovare il colpevole si rivelano molto complesse e richiedono anni. Uno degli elementi cruciali è il DNA maschile ritrovato sugli indumenti di Yara. Gli investigatori lavorano incessantemente per isolare il profilo genetico dell'assassino e avviano una gigantesca campagna di raccolta di campioni di DNA nella zona, sperando di trovare una corrispondenza. Le analisi del DNA portano gli inquirenti a una pista importante. Il profilo genetico appartiene a una persona che sarebbe il figlio illegittimo di un autista di autobus della zona, Giuseppe Guerinoni, morto anni prima. Gli investigatori devono quindi individuare il possibile figlio sconosciuto di Guerinoni, che risulta essere Massimo Giuseppe Bossetti, un muratore di Mapello, un paese vicino. 16 giugno 2014. L'arresto di Massimo Giuseppe Bossetti. Dopo anni di ricerche, il 16 giugno 2014, Massimo Giuseppe Bossetti viene arrestato con l'accusa di essere l'assassino di Yara Gambirasio. Il DNA di Bossetti corrisponde perfettamente al profilo genetico trovato sugli indumenti della ragazza. La scoperta del DNA viene considerata dagli inquirenti come la prova regina contro di lui. Il processo. Il processo contro Bossetti inizia nel luglio 2015. L'uomo si dichiara sempre innocente e nega di aver mai incontrato Yara, sostenendo che il DNA trovato sui vestiti della ragazza potrebbe essere frutto di una contaminazione. Nonostante le sue dichiarazioni, l'accusa basa la propria tesi sull'analisi genetica, considerata schiacciante, e su altre prove circostanziali, tra cui i suoi spostamenti nelle vicinanze del luogo del ritrovamento del corpo. Prinapo luglio 2016. La condanna all'ergastolo. Il primo luglio 2016, Massimo Bossetti viene condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Nel 2018, la Corte di Cassazione conferma definitivamente la condanna, sancendo l'ergastolo come pena definitiva per Bossetti. Conclusione. Il caso di Yara Gambirasio ha lasciato un segno indelebile nella società italiana. Oltre al dolore per la perdita di una giovane innocente, il caso ha sollevato importanti questioni sull'uso delle indagini genetiche in ambito forense e sull'impatto che un caso di cronaca nera può avere sui media e sull'opinione pubblica. Yara, descritta dai suoi familiari e amici come una ragazza solare e determinata, è diventata un simbolo della giustizia, ricordata non solo per la sua tragica fine, ma anche per la lunga e difficile battaglia legale che ha portato alla scoperta della verità.